Risposto Vole un biscotto Quei biscotti Non vengono a fare un nero 50 costano Cosa cosa le sono? Allora non filmare Ahahahha Non filmare? Ma che ti prego? No, no, quello è la studio di verde Ma guarda, i nostri sono di più, però sono uguali E' il vostro messaggio! E' il vostro messaggio! E' il vostro messaggio! No! Non vieni ci partiamo Ehi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti